E questa, siccome ci sono appena arrivati gli esiti dall'ASL per quelle analisi che noi abbiamo fatto relative a quella malattia che ha sei mesi di incubazione e che ci hanno detto che noi non siamo affetti dall'AIDS, questa canzone la dedichiamo ai tifosi di tutte le squadre, tranne la Juve. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti.